L'Aquila e Teramo a lavoro in questa prima fase di mercato estivo. Il direttore tecnico della società rossobru Ercole di Nicola è a Milano per cercare di chiudere i primi importanti arrivi. Come anticipato ieri restano due gli obiettivi prioritari della società del presidente Chiodi, il riferimento all'attaccante Gennaro Sandomenico e al difensore Giordano Maccarone. I due giocatori di proprietà del Parma interessano fortemente l'Aquila che avrebbe già trovato l'accordo con il team Emiliano. Ora ci sarà da parlare con i procuratori degli atleti ma il più sembra fatto. L'Aquila cercherà di strappare alla società emiliana anche il prestito di due giovani da inserire nel giro della prima squadra. Restando agli acquisti oltre a Sandomenico per l'attacco piace Perna, 28enne bomber con esperienza in Serie B nel Cittadella e l'anno scorso in Lega Pro con il Como. Per il centrocampo interessano Perpetuini e l'ex salernitana Manuel Mancini. Intanto su Frediani è nato un vero e proprio intrigo di mercato. L'ormai ex Aquilano è stato promesso dalla Roma al Pisa ma il giocatore vorrebbe invece la B e sogna la Virtus Lanciano. Molto attivo il Teramo che ieri ha annunciato il centrocampista laziale Amadio. Il giocatore si aggiunge a Donnarumma e per rotta arrivati già alla corte di Vincenzo Vivarini. Per l'attacco la società Biancorossa ha fatto nelle ultime ore un sondaggio per il promettente bomber 19enne Mauro Bollino di proprietà del Palermo del patron Zamparini ma nell'ultima stagione in Lega Pro al Pisa. Il giocatore in prospettiva rappresenterebbe un affare ma la strada è tutta in salita. Interessa anche l'attaccante Luigi Grassi ex Pontedera. Per il ruolo di portiere in attesa di capire come andrà a finire la telenovela Serraiocco con il Brescia è stato sondato il terreno per l'estremo difensore Pietro Marino. Il giocatore 28 anni ha giocato nelle ultime stagioni con Cosenza e Regina ma oggi è svincolato. Arriverebbe dunque a parametro zero alla corte del presidente Campitelli. Confermato infine il triangolare al comunale di Piano Daccio il prossimo 3 agosto con Pescara e San Nicolò.